Io non mi lavo da quando Alberto Tomba ha vinto il gigante in Alta Badia. Lavarsi è una convenzione, un'imposizione della società borghese. Basta imposizioni, togliere, togliere, togliere. E' un bisogno di dormire, ma chi l'ha detto? Sono uno stato della mente. E' un'idea come l'amore, la morte, la doccia. Andiamo a togliere, sottrare anche i nomi delle vie. Cosa mi rappresentano i nomi delle vie? Sono tutti nomi di morti. Io voglio gente viva. Ma voglio proprio loro in persona attaccati ad un palo per parlarci, saper la loro storia.